BISCHA VE tabs pizza PIZZA DI ISOLANIIII ISSO LA LE DI DICAMA Eccoci di nuovo ritornati Eccoci di nuovo ritornati Ésci di nuovo ritornati Mi sembrava molto italiano Eccoci ritornati in questo episodio dell'Isola dei Famosi, come ho detto già non ho fatto quello precedente, la scorsa puntata perché stavo un attimo a Berlino e vi lascio qua il vlog, magari che tu tu vuoi andare a venire. Ma bandola Ciancio e Ciancio alle bande andiamo direttamente a questa fantastica prima puntata dell'Isola dei Famosi, come da titolo la puntata si è incentrata su Giugas Casella, Cipriani e poi alla fine sempre sul fatto de Monte, quindi andiamo a spulciare questa puntata insieme. La puntata inizia con Alessia che appunto parla del fatto di Francesco Monte, ancora, again, sempre, sempre, sempre e lei dice che comunque i giornali, i giornalisti dicevano che Alessia non aveva preso posizione su questa cosa e lei dice ok allora la prendo la posizione. Io sono contrario alle, non lo so se qua mi segnalano il video su, perché anche YouTube è come la Mediaset, qua non puoi dire che subito blocca la copyright strike. Vububanna, vububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Si parlerà più avanti con Cecilia Capriotti che entra in studio e quindi si riparla di nuovo di tutto, tutto questo, però ovviamente Alessia dice che queste cose bisogna parlare in un'altra sede e Barbara D'Urso già sta così con il cuore, venite, il 90% di Cher senza i Rodriguez. La cosa più bella che è successa qui nella puntata è ovvio che andiamo direttamente al dunque è stata Jukas, Jukas ha avuto una sfida direttamente da Alessia che appunto doveva ipnotizzare la Cipriani e poi la doveva far buttare dall'aereo in due minuti, due minuti per ipnotizzarla e due minuti per farla buttare. E ovviamente cosa hanno giocato sul fatto di Monte è del fatto di Cipriani che si è buttata dall'aereo che è il picco di ascolto nella prima puntata, nella seconda già è stata un po' così, nella terza già un po' così ed è stato un picco di ascolto quindi hanno puntato business ancora su questo e hanno fatto bene, infatti la puntata è stata molto vario pinta. Quindi Jukas ipnotizza la Cipriani che all'inizio non voleva andare, diceva c'è il mare forza 9, c'è il mare forza 9, non mi voglio buttare, non mi voglio buttare, all'improvviso sviene a terra. Adesso sono due le questions, uno è svenuto per l'alito potente di Jukas Casella che probabilmente ha e quindi è svenuta, oppure gli ha stretto talmente tanto il polso Jukas che praticamente gli ha fermato il sangue ed è svenuta all'improvviso, ma all'improvviso si è stesa sulle scale ed è svenuta. Business! Ovviamente voi vi chiederete, ma perché si fa tutto questo? Perché c'è una ricompensa ben 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 succulenta, cioè che ogni naufrago riceverà una pizza, quindi tutte queste pizze sono il mare della Cipriani. Jukas Casella allora sale sul aereo con la Cipriani ipnotizzata, all'improvviso la Cipriani si addormenta e le fa sveglia, 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 come fa lui, si sveglia la Cipriani e Jukas dice, Io quando dirò pizza, tu ti butterai in acqua, i minuti nel frattempo scorrono e mancano appunto due minuti. Jukas all'improvviso urla, pizza! 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 E la Cipriani si butta e quindi vincono la prova, questa prova, e tutti quanti avranno una pizza. Ma se tu mi urli pizza, anche io mi butto dal decimo piano, perché mi tengo fame e voglio una pizza. Come quando andai in Spagna, se mi si lancia una pizza buona, io mi sarei buttato anche dall'alto piano dei cieli della Vergine Maria Entusiasma. La Cipriani poi contentissima che ha vinto questa prova, all'improvviso si butta addosso a Jukas, lo bacia, lo butta a terra. Comunque sembra che l'ipnosi di Jukas l'abbia drogata letteralmente, perché durante tutto il programma sclera, sclera come una pazza. Dopo sta manfrina, Alessia annuncia che Jukas deve abbandonare il gioco, perché ha un problema alla costola e si deve far vedere dal medico. Poi più avanti dice che non deve ritornare a Milano per poi ritornare, perché ha detto se tu stai bene, oa, vieni a Milano, se stai bene, ritorni. Poi rettifica e dice, ti mandiamo il medico in Honduras, se stai bene resti, se non stai bene te ne vai. Quindi Jukas è a rischio elimination, come un po' ha fatto anche Craig, che appunto per il problema sempre della costola se ne ha nato. Arriva il momento della nomination, i nominati sono Filippo, Amaury e Franco. E ad annunciare, ovviamente Filippo aveva avuto la sorpresa, Franco aveva avuto la sorpresa, soltanto Amaury non aveva avuto la sorpresa, infatti inizia a piangere perché voleva la sorpresa. E la sorpresa era che appunto la moglie di Amaury annuncia che appunto Amaury è salvo. Poi fa un discorso fantastico, bellissimo, emozionante, tu ce la fai, tu ce la fai, tu ce la fai, tu ce la fai, tu la ce la fai. Pizza, pizza, pizza. E alla fine poi Filippo se ne va anche lui dall'isola e viene eliminato. Poi in studio entrerà Cecilia Capriotti e si riparlerà di nuovo della troca, ma penso che sta cosa tagliamo. Andiamo in attente al dunque. Pizza, pizza, pizza. Come vi ho detto la cosa più caliente è stata questa del Diplosi perché iniziano a parlare poi di Marco Ferri, iniziano a parlare di sketch della... Fanno vedere poi le clip della Jalapas e alla fine si va direttamente alla prova leader dei Peor e Mehor. Che tra l'altro è stata fatta anche in registrata, cioè nel senso che era già stata fatta e poi in diretta hanno fatto solo le finali. Perché è stata fatta questa prova del Peor e Mehor. Il Peor è stato... Discarico, offerto da Scarica e Scarica. Scarica anche tu il tuo discarico e avrai in omaggio un bici in omaggio. Eccoci qui dopo la reclam e possiamo continuare. I Peor sono stati Jonathan e Paola e i Mehor sono stati Rosa e Simone. Quindi in diretta hanno fatto, diciamo, il ballottaggio, la finalissima. La prova consisteva sempre nella corda che bisogna appendersi. Puoi togliere un braccio, puoi togliere un braccio, fin quando non si lascia solo un braccio e chi resiste di più vince. Vincono Jonathan e Simone. Quindi Simone è il Mehor e Paola è la Peor. Alessia poi annuncia finalmente che ci sarà un'isola, quindi Mehor e Paola staranno tutti quanti in un'isola. Tranne il Mehor, cioè Simone, che ha dovuto scegliere una persona, cioè ha scelto Elena, per vivere nella Isla Bonita. San Pedro Che cos'è l'Isla Bonita? Praticamente è un hotel a 5 stelle sul mare, con bagno, letto, doccia, tutti chi ne ha più ne metta. E Simone, appunto, che è innamorato di Elena, invita Elena ad andare, quindi questi due stanno nel hotel. Pizza, pizza, pizza. Prima delle nomination, poi, si rientra in studio e fanno vedere praticamente Craig che inizia a vedere gli angeli di Maravenir e poi porta una bambola di porcellana inquietantissima, regà, inquietantissima. Che praticamente quando è uscito Craig dall'isola, questa bambola praticamente che era sotterrata è uscita dal terreno e l'hanno ritrovata fuori casa di Craig. E questa bambola, Craig diceva che appunto aveva 80 anni e che è senza dimora e sta cercando una casa. Gliela danno a Maravenir e Maravenir dice vai di retro con sta bambola. E quindi sketch comici a non finire e poi si va alle nomination. Si va alle nomination e Giucas ovviamente non può nominare perché sta in visita medica. Paola che è la peorra appunto deve scegliere 5 nomination palesi, 5 persone che palesemente voteranno. E sceglie Bianca, Franco, Nino, Alessia, Jonathan e appunto lei farà la nomination palese. Gli altri fanno la nomination normale, la cosa trash delle nomination è la Cipriani che invece di mettere il fogliettino nelle stufa prova a lanciarla ma non riesce a beccarla. Inizia a fare così, 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 così. Ma voi vi chiederete qual è la penalità del peor? La penalità del peor è che appunto sarà legata, in questo caso legata perché è Paola, sarà legata alla persona che ha nominato, in questo caso Bianca. Che tra l'altro gli aveva detto anche che lei non voleva dire che non si è trovata bene ma lei non si vuole trovare bene, cioè non vuole stare con Bianca. E poi alla fine il karma le unisce e appunto Paola sarà legata a Bianca con un... Tipo un nastro, che cazzo era? La corda. Con una corda per sempre, non so per quando, non so se per tutta la settimana o per qualche giorno. I nominati del gruppo sono Paola e Franco, mentre i nominati del Mejor, con una motivazione stupida, quella di Simone, che dice siccome Nino ha votato ingiustamente due volte Elena, io voto Nino. E quindi vabbè, anche Maria Vanier si incazza e dice che cazzo di motivazione è, ma va bene. Quindi i nomini scevano Paola, Franco e Nino. E finisce anche qui questa puntata del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip. Certo, del Grande Fratello Vip. Certo, certo. Nell'isola dei famosi. E quindi all'1.10 finisce questa puntata. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo appuntamento. Spero che questi video vi siano piaciuti. Se vi sono piaciuti mettete un like, condividete, commentate di quello che pensate, di quello che avete pensato di questa puntata. E noi ci vediamo, cari isolani, al prossimo video, la prossima puntata del L'Isola. Pizza, pizza, pizza! E ovviamente Bright Life, che è il mio saluto, che è sta pizza. Grazie a tutti.